nella manifestazione di domenica. Buongiorno a tutti, faccio un breve massaggio di ringraziamento perché è doveroso, quindi un grazie veramente di cuore a Mauro Dattulli come direttore del Porto dello Ionio perché ci dà questa possibilità e questa visibilità nel territorio che noi come centro ippico abbiamo solo nelle circostanze dei concorsi. Invece grazie a una persona che ci crede nel suo territorio come Mauro ci dà questa possibilità e non è la prima volta, come ha già detto anche per altri eventi, a far conoscere le varie eccellenze del territorio. Noi speriamo di farne parte con il nostro centro ippico. Un grazie anche alla dottoressa Marisa Di Santo per il Lions Club Terra Ionica di cui ne faccio parte e che ci ha onorato di far nascere questo club proprio nel nostro centro ippico e addirittura di riflesso anche dare il nome di Terra Ionica. Quindi lei con la sua sinergia e con la sua, mi passa il termine, incapabilità, facciamo tanti di questi eventi e quindi questo mi onora. Ma un grazie grande, veramente grande a tutte le associazioni perché grazie a voi noi possiamo fare tutto questo e ne siamo veramente onorati perché noi diciamo delle associazioni che sono dei ragazzi con delle fragilità ma io ne sono fermamente convinto che noi abbiamo tanto da imparare da voi e quindi non vedo l'ora domenica di creare oltre il binomio cavallo-cavaliere come ha detto l'amico Matteo, grazie a questo trinomio noi vogliamo interfacciarci con voi e veramente darvi quello che può dare l'animale, l'amico cavallo. Quindi brevemente vi dico come si svolgerà la giornata. Alle ore 10.30 ci incontreremo tutti lì davanti al nostro punto di raccolta che è la segreteria del circolo di Papers Club Terra Ionica che si trova presso l'azienda agricola Villa Donna Catia a San Giorgio che ci ospita. Dopodiché faremo un breve giro per far vedere la struttura iniziando dalle scuderie dove ci sarà un cavallo e ci sarà una dimostrazione del cavallo di come viene accudito come viene quotidianamente trattato tutto questo ci saranno dei tecnici responsabili istruttori che vi faranno vedere come avvicinarsi al cavallo come sellare un cavallo ci sarà una dottoressa veterinaria che potrà farvi vedere alcuni punti di fragilità anche se questo è un animale così grande anche lui ha delle fragilità ma nello stesso tempo fa dell'agonismo quindi non ci precudiamo nulla questo per fare appunto una sinergia con voi e poi ci sarà anche l'umaniscalco ci sarà una dimostrazione di mascalcia dove vediamo i nostri amici come vengono trattati chiamiamole le scarpe, sono le ferri a che cosa servono e qual è l'utilità di tutto ciò subito dopo seguirà una dimostrazione di scuola di equitazione che è la nostra parte anche tecnica che si svolge nel nostro centro con dei tecnici a tutto questo avremo il piacere di far avvicinare tutti i ragazzi dell'associazione gli partecipanti al nostro amico cavallo e sicuramente li coccarderemo tutti i ragazzi perché è il piacere di dargli anche un attestato di partecipazione dopodiché ci sarà un breve saluto nella parte di Storo come ringraziamento e anche delle autorità presenti perché oltre a salutare il nostro sindaco che è appena arrivato come autorità che sarà presente grazie sindaco sempre presente nel nostro centro saluteremo anche abbiamo avuto il piacere che ci deve trovare anche il comandante dei carabinieri di Taranto perché lui comunque dobbiamo sapere che viene già da Roma dove gestiva tutti i coranzieri a cavallo per cui è già un nostro abitué nei nostri concorsi e quindi con questo concluderemo la giornata con i vari saluti ma un grazie di cuore ancora a voi associazioni che ci permettete tutto questo grazie grazie presidente per la tua ospitalità e a proposito di ospitalità il nuovo ospite è colui che ci ospita scusate il gioco di parole domenica perché saremo nella meravigliosa territoria di San Giorgio Ionica all'interno del centro il sindaco di San Giorgio il dottor Fabiano facciamo un altro applauso al sindaco che ci ha raggiunto tu tra l'altro sei anche il socio dell'azio club di terra Ionica quando ci sono queste manifestazioni così inclusive così belle dove lo sport non è altro che un pretesto per stare insieme i comuni di San Giorgio Ionico è sempre in prima linea grazie e chiedo scusa a tutti voi di essere arrivati con qualche minuto di ritardo però c'era un impegno istituzionale con le organizzazioni sindacali stamattina in giudizio quindi non ho potuto ripararmi prima quindi ringrazio per l'invito il presidente del World Secrets in terra Ionica la dottoressa Di Santo e ovviamente anche il direttore del centro commerciale a Porta dell'Ionio per l'ospitalità qui siamo siamo in casa vostra e siamo onorati di essere qui come comunità in intenti la Club Lions l'amministrazione comunale e tutte le altre associazioni devo dire che non è la prima volta che il Club Lions organizza degli eventi meritori sul territorio comunale di San Giorgio tuttavia quello di domenica credo che tra i tanti eventi che vengono organizzati sia veramente l'ultimo di una lunga serie ma probabilmente uno dei più importanti che sono in programma tra i tanti altri eventi che sono stati organizzati il fatto di poter fare qualcosa che è lo spirito del Club a favore di tutti ma soprattutto di quelli che hanno bisogno in qualche modo è un'estensione di quello che è lo scopo anche delle amministrazioni pubbliche che intanto esistono perché devono offrire servizi ma soprattutto devono offrire servizi in un certo livello a chi ha più bisogno e noi come amministrazione comunale ma come comunità cittadina abbiamo accolto con grandissimo piacere questo evento di cui ovviamente voglio ringraziare per la collaborazione di tutti quelli che si sono spesi a come per il Club Lions della Ionica su tutte le altre soluzioni anche la disponibilità del nostro Club della Ionica che qui è rappresentato da Fabio Poto è ormai una costante la nostra comunità cittadina anche grazie alla grande disponibilità del Club riesce spesso ad intercettare queste iniziative e a rendersi disponibili perché chi è meno fortunato chi ha più bisogno possa in qualche modo trovare attraverso l'aiuto di tutti coloro che si impegnano per le persone che hanno difficoltà per i disabili ad avere anche dei momenti di serenità di gioia di sorrisi quindi davvero sono onorato di essere qui questa mattina e ringrazio di nuovo la Presidente la Dottoressa Di Santo tutti gli altri collaboratori del Club che ovviamente si impegnano affinché poi questi eventi che sono ideati vengano tradotti in azioni concrete e sono certo che domenica tra le bellezze naturali del Parco delle Tagliare di San Giorgio in cui è inserita la struttura dell'Orso Club della Inonica tutti coloro che verranno a visitarci che saranno graditi ospiti di questa struttura potranno trovare la serenità e il sorriso che poi grazie anche alla presenza dei cavalli come prima spiegava Fabio viene in qualche modo accelerata aumentata perché il binomio cavallo-bambino cavallo-persona disabile è sempre come ci spiegano gli esperti un binomio che riesce a fare a un sentito anche dei miracoli quindi grazie ancora grazie a tutti voi intanto per avermi invitato ma soprattutto perché a San Giorgio ancora una volta è San Giorgio stessa come comunità viene alla ripalda della cronoma che lo vediamo anche oggi perché ci sono queste buone azioni queste azioni fatte da gente in maniera persona assolutamente raggiunte e volontaria a favore di chi più ha visto grazie e ci vediamo ovviamente domenica domenica mattina grazie grazie grazie